No, la partita non è chiusa e se non nei 30 giorni ipotizzati ieri dai due comunicati congiunti delle aziende difficilmente l'accordo verrà siglato molto prima, perché Alitalia ed Etihad si studiano da tempo, hanno entrambe ottime ragioni per unirsi, ma gli ostacoli sul cammino sono tanti. Quelli interni, dall'esubero di personale ai debiti della nostra ex compagnia di bandiere e quelli esterni. Per dire, oggi Lufthansa ha scritto alla Commissione europea lamentando il fatto che l'eventuale alleanza fra la Compagnia degli Emirati e Alitalia sarebbe una sorta di aiuto di Stato mascherato e dunque fuori legge, perché per l'appunto Etihad è compagnia di bandiera dunque statale. Questo potrebbe essere il nuovo tema, la storia di poste italiane infatti sembrava superata, tesi comunque rigettata subito in prima battuta dal Ministro dei Trasporti Maurizio Lupi, che ha sottolineato come invece si tratti di un affare fra pirivati, e successivamente dal Vice Presidente della Commissione europea Antonio Tajani. E' però segno inequivocabile di grande nervosismo da parte del vettore tedesco, che, va detto, considerato che Etihad controlla anche il 22% di Air Berlin, potrebbe ritrovarsi uno scomodo rivale in casa perché rafforzato dall'alleanza. Invidia a parte, tuttavia, non bisogna scordare gli ostacoli interni. Oggi è saltato l'incontro fra l'amministratore delegato di Alitalia e i sindacati. Gabriele del Torchio, infatti, era a Milano, dove è riuscito a farsi aprire una linea di credito dalle banche per 165 milioni. Soldi indispensabili per andare avanti, ma che dimostrano anche come i finanziatori, almeno i due istituti di credito principali, Intesa e Unicredit, non abbiano più molta scelta, essendo nel contempo anche azionisti di Alitalia. Insomma, a nessuno conviene un fallimento, ma i tempi sono stretti. E se è vero che l'ingresso di Etihad significherà più probabilmente un aumento di capitale, indispensabile a questo punto, è anche vero che gli arabi non vogliono né accollarsi il debito italiano né soprattutto gli esuberi, quei manager e quei 1900 fra piloti, assistenti di volo e personale di terra, per i quali da domani si ricomincia a trattare.